Fra qualche mese saranno due anni di pandemia, marzo 2020 e marzo 2022. Campagna vaccinazione che è un po' rallentata dappertutto e adesso qui ad Alcamo, a Lab Vaccinale, come stanno andando le cose? Adesso stiamo registrando un leggero incremento, frutto di tante cose, frutto del sempre più intensificarsi dei green pass, dell'esigenza di esibirli in molti luoghi di lavoro, frutto dell'apertura alle terze dosi, frutto anche dei timori legati alla stagione invernale, a un virus che tende a circolare di più, quindi tanti aspetti che stanno anche convincendo anche i più scettici, non solo per seguire la terza dose ma anche per effettuare le prime dosi per coloro che finora non l'avessero fatto. In media adesso ad Alcamo a quanto si viaggia? Siamo intorno tra i 150 e le 200 vaccinazioni giornaliere ed è un buon numero rapportato agli ultimi mesi in cui il calo è stato evidente un po' dappertutto. Tra l'altro state cercando di ripristinare il secondo corridoio per le infiltrazioni piovane di qualche giorno fa e poi potrete davvero funzionare a pieno regime? Sì, abbiamo lavorato a metà regime per ovvi motivi, appunto a causa di quel nubifraggio e adesso stiamo ripristinando l'intera struttura in modo da lavorare senza intoppi. Negli Stati Uniti è stato già autorizzato il vaccino per i bambini e qui l'AIFA mi pare siamo quasi arrivati anche alla stessa decisione. Da medico, da genitore, cosa ti senti di dire? Che non vedo l'ora che vengano autorizzate per la fascia 5-11 anni anche in Europa e quindi in Italia perché la popolazione pediatrica pur essendo per fortuna meno sintomatica pur non sviluppando particolari sintomi però è un grande vettore, un grande veicolo per il virus e ce ne accorgiamo nelle comunità scolastiche, nei luoghi di ritrovo, dell'infanzia eccetera. Per cui diventa fondamentale per vincere definitivamente questa battaglia vaccinare tutte le classi di età possibili. I ricoveri sembra che siano quasi esclusivamente appannaggio di chi non è vaccinato. Le cose stanno ancora così? Le cose stanno decisamente così. I soggetti non vaccinati hanno un'altissima probabilità di sviluppare una forma grave della malattia e di anche rischiare il ricovero o peggio la terapia intensiva, cosa che non accade per i soggetti vaccinati. Il vaccino non è una protezione al 100% per chiunque ma dà un grandissimo grado di protezione dalle forme gravi ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. All'inizio però si diceva che con il vaccino si era coperti almeno per un anno, dieci mesi, adesso invece gli ultimi studi dicono sei mesi. Mediamente tra sei o otto mesi dall'ultima dose la copertura anticorpale inizia a scendere e quindi via via diventiamo sempre più esposti a una reinfezione, a una forma anche più intensa di patologia. Per cui diventano importanti i richiami, i famosi richiami che in questo momento si traducono nelle terze dosi che molti cittadini stanno giustamente facendo. Grazie. 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 Grazie.